love is on the air questa sera qui alla mamma ines per mocos in love l'aperitivo dedicato a tutti gli innamorati in vista del san valentino io sono carmen e questa è la mia notte brava per voi e per tutti gli innamorati alessandro de stefano cosa ti sei inventato per questo san valentino per innamorati e non mocos nasce da una passione quindi passione amore vanno di pari passo e quindi una sera dedicata all'amore non poteva che venire bella così sì ma io so che tu hai delle chicche per questa sera insomma è dedicata alle coppie che si amano ma anche i single assolutamente sì stasera abbiamo dedicato la serata all'amore mocos in love quindi un motto in love da portare avanti nella vita quotidiana sia per singolo che per gli innamorati che hanno già un partner ma stasera siamo convinti che chiunque sarà qui con noi anche se per solo per questa nottata vivrà un momento di puro amore che bello così da ricordare e lavorarsi ogni volta no eccolo qui sto cercando il mamma ines non lo trovo dov'è guarda allora lo stai qui diritto ah va bene grazie ciao ma lui non l'avevamo relegato in brasilia è tornato è stato un mese in brasilia è beato lui è tornato qui da noi tanto attesa questo momento è tornato qui in famiglia mocos proprio nel giorno dell'amore guarda un po' eh guarda è l'amore che attrae è l'energia l'energia allora alessandro ricordiamo poi appuntamenti qui la domenica sempre al mamma ines comunque ci aspetta un grande marzo anche cominceremo con carnevale e tu sai essere un evento un super evento in cui tutti si maschereranno e ci sono un po di sorprese per quest'anno ancora più sorprese beh che dire ragazzi vi aspettiamo tutti quanti qui per i mocos aperitivo al mamma ines alessandro un saluto ai tuoi delle spettatori che devo dire sono diventati anche i tuoi fan vabbè una parola grossa dire fan però sicuramente sono felice di avere tanti amici che ci seguono che seguono mocos la nostra realtà la nostra mamma mocos e diciamo oltre che un saluto farei un grande augurio a tutti quelli che ci osservano da casa e quello che di vivere la vita con tanta passione che sia nel lavoro che sia nella vita privata ma viverla con amore amore per ciò che si fa e questa è la chiave diciamo che vedo che dà i suoi risultati noi ci mettiamo tutta la nostra volontà per fare con passione il nostro lavoro e questo è un lavoro che facciamo tutti quanti ciò che facciamo tutti i suoi risultati noi ci sono stati che vediamo Goldie, l'abbiamo trovata questa strada per il Mama Ines? Ma finalmente l'ho trovato il Mama Ines, finalmente l'ho trovato te Carmen e voi amici di Notti Brave, mancavano troppo tempo e ho dimenticato la strada Eh, diciamolo dove sei stato, va, perché non abbiamo ruzzicato abbastanza No, ma non c'è bisogno di dire il fatto che sia stato in Brasile per due mesi, che è stato un posto fantastico, però mi siete mancati tanto E noi ci crediamo, e guarda un po' se è proprio arrivato il giorno in cui si celebra l'amore Guarda, i Mocos hanno questo primato, io da quando sono nato non ho mai festeggiato San Valentino Pur vivendo delle storie, è stato un mio principio Questa sera loro sono riusciti a farvi festeggiare San Valentino, la festa degli innamorati Innamorati di tutti i tipi Bene, anche se non ti amo proprio perché sei stata in Brasile e io sono rimasta qui a Napoli Ti auguro ugualmente un buon San Valentino Goldi Grazie, obbligato, io voglio salutare tutti con questo gesto, mantieni un attimo questo cuore In Brasile fanno ney ney, ney ney, la ragazza vi ha lasciato, il ragazzo vi ha lasciato, avete perso il lavoro Loro fanno ney ney, toi e aim In napoletano come per dire Sei stato molto chiaro Goldi Noi ti lasciamo la tua dance floor al tuo pubblico che ti aspetta da un bel po' direi Parabéns para você, ciao Grazie a tutti